gentili telespettatori bentornati con il nostro consueto approfondimento sportivo di inizio settimana su tv molise canale 110 del digitale terrestre nella nostra regione pregherei la regia di partire con gli approfondimenti e con le schermate partiamo dalla serie di girone f dove per la sesta giornata di campionato è successo questo disputata sabato 14 ottobre la gara tra real monterotondo e vasto girardi terminato a 2 a 0 domenica 15 ottobre calcio termoli sola calcio 1 a 1 campo basso football club vico senigalli a 2 a 0 chieti tivoli calcio 1 a 0 football club matese roma city football club 3 a 2 l'aquila a 3 di coascoli 1 a 1 notaresco alma juventus fano 1 a 1 san benedettese fossombrone 2 a 2 united riccione avezzano calcio 1 a 2 la classifica del campionato nazionale di serie di guida al chiedi a 14 punti segue il fossombrone a 12 san benedettese 12 avezzano calcio 11 campo basso e football club 10 l'aquila 10 roma city football club 9 football club matese 9 sora calcio 8 notarisco 8 united riccione vico senigalli e real monterotondo 7 alma juventus fano 6 tivoli calcio 6 a 3 di coascoli 6 calcio termoli 1924 basto girardi 4 il campionato di eccellenza giunto alla sesta giornata le gare disputate sabato 14 ottobre aurora alto casertano calcio virtus gioiese 8 a 3 campo marino venafro 1 a 1 difesa grande termoli castello di sangro cep 2 a 2 sesto campano di mariposani 2 a 0 le gare di domenica 15 ottobre boiano criternina 1 a 2 città di iserne san leucio turris 5 a 0 olimpi agnonesi a terrico san pietro in valle 1 a 1 e poi di sportiva fortore dei arguglionesi 1 a 5 la classifica del campionato regionale di eccellenza morisano guida il città di iserne a 18 punti aurora alto casertano 18 venafro 11 real guglionesi 10 castello di sangro cep 1953 10 calcio virtus gioiese 9 sesto campano e poi di sportiva fortore turris 8 cliternina 7 boiano 5 atletico san pietro in valle 5 l'impiagnonese 5 difesa grande termoli 5 ripoli mosiani 4 chiude la classifica il campo marino passiamo al campionato regionale di promozione le gare di sabato 14 ottobre baranello polisportiva m uvenes 2 a 0 real prata spinete 3 a 2 rocca ravindo l'alti lasagnum 6 a 1 locomotive riche chaminade 3 a 1 domenica 15 ottobre disputate le gare tra 3 con torre maggiore e morcone calcio 1 a 0 boi si faranno trivento 4 a 1 calcio montenero forlum 2 a 0 polisportiva calena esene fraterna 1 a 3 la classifica guida il locomotive riccia 16 punti boi si faranno 15 baranello 14 calcio montenero 3 gesene fraterna 12 real prata 10 a 3 con torre maggiore 10 spinete 9 trivento 9 rocca ravindo la 6 forlum 6 morcone calcio 6 polisportiva m uvenes 5 chaminade 4 polisportiva calena 4 alti lasagnum 0 punti infine diamo uno sguardo come sempre nel nostro approfondimento sportivo d'inizio settimana al campionato regionale di prima categoria girone a le gare di sabato 14 ottobre pozzigli 1967 campobasso calcio 2 a 0 san giovanni incato sant'angelo di mosanno 2 a 6 volturina calcio gioventù macchia gorenese 2 a 4 le gare di domenica 15 ottobre alla fidelis alife 1 a 4 artelic miniano tamaro 3 a 1 carpino ne calcio domenico desisto 3 a 2 mirabello rufe presenzano 1 a 2 ha riposato l'autax pietra melara chiudiamo con la classifica del campionato regionale di prima categoria alife 12 punti sant'angelo limosano 10 domenico resisto 9 rufe presenzano 9 autax pietra melara 7 pozzigli 1967 artelic miniano 7 carpinone calcio 6 alla fidelis 4 san giovanni incaldo e mirabello calcio gioventù macchia gorenese 3 punti campo basso calcio 1 volturnia calcio e tamaro chiudono la classifica a 0 lunghezze gentili telespettatori vi ringraziamo come sempre per averci seguito nel nostro approfondimento sportivo di inizio settimana sportivamente flash su tv molise vediamo una bella notizia venerdì 20 settembre ripartirà la seconda stagione di sportivamente appuntamento alle ore 21 su tv molise seguiteci sul canale 110 del digitale del resto sul sito www tv molise punto it e sulla pagina facebook di tv molise da michele visco un saluto a tutti voi